E come tutte le relazioni di oggi, tranne le mie, è di estremo interesse. Abbiamo il professor Pierangelo Veggiotti, che è professor ordinario a Università di Pavia, che ci parlerà della dieta chetogenica nelle epilessie e nelle malattie neurologiche. Pierangelo. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Allora, io parlerò un po' dell'aspetto della dieta chetogenica nelle epilessie e nel glutuno. E poi le ultime due o tre diapositive cercherò di farle un po' discorsive e di ragionare insieme a voi su quelli che sono i problemi. Io penso di avere un'esperienza oramai pluriennale, perché nel 2019 festeggiamo 25 anni di dieta chetogenica a Pavia. Per cui è un'esperienza lunga, che è stata per certi versi anche dolorosa, perché è un'esperienza che sicuramente ha trovato sulla sua strada una serie di intoppi, una serie di difficoltà che non sono ancora completamente risolte. Ne riparliamo poi nella seconda parte. Perché c'è bisogno di una terapia alternativa o di un'opzione ulteriore per le epilessie? Perché come potete vedere da questa diapositive, il 36% delle epilessie non vengono controllate dai farmaci tradizionali. E questo nonostante che si provi un secondo farmaco, un terzo farmaco e altri farmaci ancora. E qui c'è un discorso estremamente importante. Il 36% dell'epilessia è tantissimo. Ed è tantissimo ancora di più se noi facciamo il discorso che quando io ho cominciato, oramai 30 anni fa, le epilessie non controllate erano circa il 35-40%. E purtroppo in questi 30 anni la ricerca farmacologica non ha portato un cambiamento radicale da cambiare questa percentuale. Se voi pensate che le leucemie 30 anni fa dei bambini, il 20% guarivano, l'80% morivano, adesso la percentuale si è completamente ribaltata, per cui l'80% guariscono e il 20% muoiono, c'è qualcosa che non va nell'ambito dell'epilessia. Ma un altro problema è che avere un'epilessia farmacoresistente è un costo, un costo enorme per lo Stato. Potete vedere che il costo annuale per una persona che ha un'epilessia resistente è di quasi 5.000 euro. E di questi quasi 5.000 euro, 2.226 euro sono spesi per un farmaco di seconda, i cosiddetti farmaci di seconda generazione. Per cui avere una persona con epilessia vuol dire un costo per lo Stato enorme. Non risolvere la sua epilessia vuol dire, oltre che una sofferenza per la famiglia, una sofferenza per la persona, un problema enorme anche per lo Stato. Di conseguenza avere qualcosa in alternativa potrebbe essere una cosa estremamente utile. E poi questi sono i costi diretti, e non ci sono tutti i costi indiretti che subiscono la famiglia, l'ambiente di lavoro e tutta la situazione che gira intorno a un malato con epilessia. Allora, una delle opzioni che purtroppo è un po' poco utilizzata in Italia è la dieta ketogenica. Non sto a fare la storia riassunta in questa diapositiva, perché l'ha già fatta il professor Paoli, ma penso che la dieta ketogenica ormai possa essere considerata, vedete dove viene utilizzata, in tutto il mondo praticamente, è una delle opzioni che deve essere utilizzata, come dicono gli inglesi, as soon as possible. Ma la situazione italiana è ben diversa da quella americana. Questo ragazzo qua è Charlie. E Charlie è un ragazzo fortunato, perché aveva un'epilessia farmacoresistente, perché ha fatto una chirurgia dell'epilessia che non è servita a nulla, poi ha incontrato John Freeman alla John Hopkins e la sua fortuna è che John Freeman gli ha fatto la dieta ketogenica e la dieta ketogenica ha cambiato la sua vita. Ma se Charlie è stato un ragazzo fortunato, lo stesso è stato John Freeman, perché questo signore qua di fianco, il papà di Charlie, era un produttore di Hollywood, il produttore di Hollywood di questa signora, Meryl Streep, e con i soldi raccolti tramite l'appoggio di Meryl Streep, che vedete ancora adesso, va nelle feste per raccogliere fondi per la dieta ketogenica, ha fondato la Charlie Foundation. E la Charlie Foundation dà e offre un sacco di soldi al mio amico Eric Kossov per poter ricercare sulla dieta ketogenica e per poter avere un centro sulla dieta ketogenica che è il primo al mondo. Da questo sono derivate delle linee guida, come potete vedere, che è proprio grazie alla Charlie Foundation che ha messo in piedi questa raccolta delle persone migliori o presunte migliori nel mondo che si occupano di epilessia e tramite questi fondi c'è un interesse della dieta ketogenica che è di migliaia di pubblicazioni. Ma secondo queste indicazioni e secondo le indicazioni che sono uscite nel 2015 su Epilepsia, che è il giornale ufficiale della Lega Internazionale contro l'Epilessia, in realtà non ci vuole molto per fare una dieta ketogenica. E' importante avere un neurologo, preferibilmente, che conosca la dieta ketogenica, dei minimi test di laboratorio e che il paziente possa avere una supplementazione vitaminica. Per cui in realtà noi possiamo dire che lo strumento e l'ambiente per cui la dieta possa essere messa in atto non è uno strumento o un ambiente così complicato. Ma come siamo messi noi in Italia? Come ha già fatto vedere la professoressa Tagliabue, noi abbiamo prodotto delle linee guida anche noi italiani e queste linee guida sono servite a fare una maggiore attenzione, una maggiore volontà ai medici italiani per poter fare la dieta ketogenica. Ma secondo me non sono ancora abbastate e in questo momento la situazione non è ancora quella ottimale. Noi soprattutto dovremmo avere nella mente un diagramma per cui quando una persona ha utilizzato due trattamenti medici dovrebbe essere, è definita per la definizione che è stata prodotta sempre dalla Lega Internazionale dell'Epilessia, come epilessia farmacoresistente. Allora a questo punto noi possiamo dare un altro farmaco e dare un altro farmaco e darne un quarto e darne un quinto e darne un sesto e darne un settimo, ma potremmo invece utilizzare delle terapie alternative e quasi sempre in Italia si prende questa via. Io ho visto l'altro giorno una signora che era curata in un ospedale del nord Italia che veniva da me per fare la dieta ketogenica dopo aver utilizzato 21 farmaci e un'altra signora ancora che veniva da me per fare la dieta ketogenica dopo aver utilizzato 23 farmaci. Allora io mi chiamo, dico sempre a queste mamme, che mi chiamo Pierangelo e non Pio, perché se fossi Pio forse potrei risolvere la situazione. Pierangelo mi viene difficile. Però la situazione è quella che si arriva all'utilizzo della dieta ketogenica non dopo due trattamenti medici, ma dopo 20 trattamenti medici. Veniamo un po' alle indicazioni della dieta ketogenica in ambito neurologico. La prima indicazione è quella del glutuno. Perché la dieta ketogenica è la terapia elettiva del glutuno? Perché, come potete vedere da questo schema, qui non passa il glucosio. Non passando il glucosio, tutto il meccanismo che produce l'energia viene interrotto perché manca la benzina. O perlomeno la benzina non manca completamente, ma manca, c'è un deposito di benzina che è molto minimo. Se io do, per intendermi, il GPL, ho a disposizione la benzina e il GPL, a un certo punto quando finisce la benzina interviene il GPL e la macchina non si ferma mai. Questo è lo schema che noi abbiamo prodotto un po' di anni fa per fare una diagnosi e poi il trattamento del glutuno. E il trattamento e la diagnosi del glutuno noi l'abbiamo fatto ormai in più di 30 pazienti. E i risultati sono splendidi. Abbiamo due pazienti che hanno interrotto la dieta. Uno è una ragazzina con una storia familiare complicata, con una serie di disgrazi inennarrabili, che non ha permesso di avere un'attitudine, un'attenzione a proseguire la dieta. E un altro è una ragazza adolescente che preferisce i panzotti di Lecce alla dieta chetogenica, ma su cui non riusciamo a fargli cambiare idea. Ma tutti gli altri hanno proseguito la dieta e abbiamo già anche un papà che ha quasi 40 anni, si è messo a fare la dieta e sta progressivamente togliendo le medicine. Per cui questi possono essere tre tipi di approcci che possono essere fatti nel glutuno, ma quello che è importante è che ci sia un lavoro di equip. E questo lavoro di equip centrato sulla famiglia, è un lavoro di equip centrato sulla famiglia in cui ci sono tante interazioni di varie figure. E questo è il modo migliore per portare avanti la dieta in tutti i campi, ma anche in particolare del glutuno. E questo ci ha portato ad avere dei risultati estremamente interessanti. Allora, noi adesso stiamo studiando con dei colleghi americani e dei pediatri italiani come può essere il profilo metabolomico, perché potrebbe esserci che da questa indicazione della metabolomica noi potremmo avere un profilo della persona e questa persona avere una risposta maggiore o minore alla dieta chetogenica. e potendo cominciare ad avere dei risultati da questo studio metabolomico potremmo avere poi un profilo che ci può predire una funzionalità migliore della dieta. Ma ancora di più è interessante l'aspetto della caratterizzazione neuropsicologica. Come potete vedere, i pazienti dopo 18 mesi e dopo 36 mesi di dieta hanno nella maggior parte una crescita del loro quoziente intellettivo. Ma questo è stupefacente che chi non l'ha avuto a 18 mesi, proseguendo la dieta, ce l'ha dopo 36 mesi. Vedete, questo paziente non l'ha avuto e l'ha avuto dopo 36 mesi, questo l'ha avuto ma ancora di più è migliorato dopo 36 mesi e questo che non aveva avuto un miglioramento è migliorato dopo 36 mesi. Vuol dire che la dieta portando un apporto di energia sufficiente a quello che il cervello ha bisogno fa sì che anche al di là della scomparsa delle crisi, al di là dei disturbi del movimento, al di là di tutto quello che è la sintomatologia clinica, c'è un miglioramento delle capacità cognitive di queste persone che garantisce a loro di avere una vita migliore che in fondo è quello che importa a noi veramente. Questo poi è il trial clinico su cui dovremmo partire nei prossimi mesi che potrebbe diventare un'alternativa in un futuro alla dieta. Ma è un trial clinico che non è ancora iniziato e per cui ne parleremo fra un paio d'anni quando ci ritroveremo un'altra volta. Però l'indicazione precisa, ulteriore per la dieta è quella dell'epilessia. Esiste una forma di epilessia che è adatta e in cui è più utile fare la dieta? Purtroppo un'indicazione così precisa non c'è. Ci sono articoli in cui ci sono indicazioni, ci sono delle esperienze soprattutto sudamericane sul fatto che la sindrome di Dravet risponda benissimo alla dieta, però purtroppo non abbiamo ancora una precisa indicazione su quale epilessia e quale dieta fare, ma soprattutto quale epilessia sia più adatta per la dieta. Il nostro approccio d'efficacia è un'efficacia che è stata dimostrata ampiamente e che è un'efficacia che nelle esperienze americane, anche vecchissime, è altissima perché c'è un 7% di seizure free, un 20% di persone che hanno avuto più del 90% di riduzione delle crisi e un 23% di persone che hanno avuto un'eduzione superiore al 50%, per cui siamo al 50% di risposta. E questo 50% di risposta, vedremo dopo i nostri dati, noi in Italia per adesso non lo troviamo. E possiamo domandarci perché. Qual è il nostro approccio? Il nostro approccio, in uno dei lavori che abbiamo fatto negli ultimi mesi, è un approccio sempre centrato sul paziente, ma come ho già fatto vedere prima, è un approccio di qualche cosa che deve ruotare intorno al paziente e deve ruotare intorno al paziente con una serie di interventi che sono di un'equipe, non di una persona. Non esiste fare la dieta chetogenica con un singolo, esiste e si deve fare la dieta chetogenica con un'equipe. Come è importante la valutazione neurologica per cui avere un neuropsichiatra che fa la dieta chetogenica, allo stesso modo è ancora di più importante il fatto che ci sia un'equipe dietologica, ma allo stesso è importante che ci sia anche una nurse dedicata alla dieta chetogenica, che ci sia qualcuno che risolva anche tutte le pratiche, tutte le cose burocratiche che spesso fermano o prolungano l'inizio o il mantenimento della dieta. Abbiamo appena fatto una dieta a una ragazza di Padova, questa ragazza di Padova adesso ci è ritornato dalla farmacia di Padova una serie di richieste, di precisazioni. Se io non avessi una nurse, una persona che è brava, che conosce questo argomento e che mi aiuta in tutte queste cose, perderai tantissimo tempo e farei di conseguenza meno diete. Come dicevo, la nostra esperienza ha quasi 25 anni, ma in 25 anni abbiamo fatto 140 pazienti. Perché dico ma? Perché penso che il mio amico Kosovo ne faccia 144 in un anno, non un anno no, ma forse in due anni. E l'altra cosa gravissima è che l'età di inizio della dieta è media di 123 mesi, 123 mesi, e la storia di malattia è di 96 mesi. Cioè, come dicevo prima, non arrivano dopo il secondo farmaco, dopo il terzo farmaco, ma arrivano da noi pazienti che hanno, vedete, 68 su 113, hanno delle crisi pluricotidiane, hanno un'encefalopatia epilettica, hanno utilizzato perlomeno 4 o 5 farmaci. Per cui il problema vero dell'Italia è che noi iniziamo troppo tardi e selezioniamo i pazienti non in una farmacoresistenza generica, ma in una super farmacoresistenza. E questo super farmacoresistenza chiaramente non ci permette di avere dei risultati come gli americani. Per cui noi a 12 mesi abbiamo 6% di seizure free, 14% che hanno una riduzione superiore al 50%, e di conseguenza i nostri risultati sono molto meno efficaci di quelli degli americani. Però se voi ragionate sul trial terapeutici dei nuovi farmaci antiepilettici, voi avete dei risultati che sono sovrapponibili o anche inferiori a questi. Cioè, gli ultimi farmaci antiepilettici che sono stati messi in commercio hanno una percentuale di seizure free che è intorno al 10% e hanno una percentuale di riduzione delle crisi superiore al 50% che è intorno al 20-25%. Per cui sono dei costi enormi di sperimentazione, dei costi enormi di produzione e di commercializzazione di farmaci con dei risultati che sono sovrapponibili a quelli che noi otteniamo nelle gravi encefalopatie epilettiche. Tra queste encefalopatie epilettiche, proprio per cercare di trovare un aspetto che potrebbe indirizzare verso l'indicazione, c'è un gruppo di pazienti che vanno particolarmente bene e che sono quelli che hanno delle marformazioni della corteccia cerebrale estesa, per cui non operabili, o che hanno delle displasie focali in zone eloquenti per cui non possono essere operate. E questi pazienti vanno particolarmente meglio, pur avendo un'epilessia che è gravemente intrattabile, hanno una buona risposta. Questo è l'EG di un bambino con una microlissencefalia prima e dopo la dieta. E allora vediamo, vabbè, se questa dieta ha tutti questi pregi, avrà anche degli effetti collaterali. Voi vedete che la sospensione dei nostri pazienti è per la maggior parte data da pazienti che hanno sospeso la dieta per inefficacia o per una compliance non adeguata, ma per reali e importanti effetti collaterali sono veramente pochissimi. Ma allora, veniamo alle conclusioni, che sono anche un po' delle domande. Allora, il primo problema è quello che bisogna cominciare prima. Se noi in Italia non abbiamo una capacità di mettere nel nostro prontuario medico, possiamo dire così, anche la dieta chetogenica, noi non avremo dei risultati che sono sovrapponibili a quelli del resto del mondo. ma oltre a questo bisogna forse cercare e identificare dei biomarker, come stiamo cercando di fare con questi studi, che possono già indirizzarsi verso una scelta del paziente che possa essere un migliore candidato. E questo potrebbe essere fatto anche con la genetica. Voi sapete che il punto di arrivo della medicina di quelli che lavoreranno dopo di me, perché io purtroppo non riuscirò a vederla, perché in dieci anni purtroppo non sarà così, è quella che viene chiamata la precision medicine, ovvero sia avere una tipizzazione genetica con sia del tipo di patologia, sia dei possibili effetti collaterali, sia dei possibili problemi che una terapia farmacologica. Questa precision medicine è quello che sarà il futuro nella cura di tutte le malattie, ma in particolare dell'epilessia. E noi dovremmo arrivare a avere una precision medicine, sia genetica che bioumorale, anche dei pazienti con la dieta. E poi, secondo me, in Italia c'è da migliorare la conoscenza di questa terapia. E migliorare la conoscenza sia sull'aspetto dietologico, ma migliorare la conoscenza anche per i neurologi e i neuropsichiatri. Se uno mi manda un paziente dopo 21 farmaci, vuol dire che non crede nella dieta, ma che crede solamente che non sa più cosa fare, allora mandiamolo da Veggiotti perché così Veggiotti mi toglie un peso. E questo non è un ragionamento scientifico, è un ragionamento che non porta a niente. E poi è chiaro che se noi, che siamo un centro di riferimento, ci siamo incontrati con tutti i centri di riferimento italiani e temo che dai calcoli e dal survey che verrà fatto, che sta per essere fatto in questi giorni, non riusciremo ad avere in Italia 300 persone che hanno fatto la dieta, vuol dire che c'è qualcosa che non va, qualcosa che va migliorato, qualcosa che va migliorato nella conoscenza. E per far questo bisogna superare il pregiudizio e tutti i pregiudizi. Ma manca ancora di più, secondo me, quello che deve essere, io qui ho messo come una connettività tra anche tutti i centri che fanno la dieta, che in Italia non c'è, o c'è poco. Bisogna avere un gioco di squadra, cioè una persona che abita a Reggio Calabria non deve venire fino a Salerno, forse il posto più vicino, ma spesso e volentieri deve venire fino a Roma o deve venire fino a Milano per fare la dieta chetogenica. La dieta chetogenica dovrebbe essere fatta in centri selezionati che utilizzano lo stesso protocollo, e il protocollo c'è già, non è che ce lo dobbiamo inventare, e che abbiano una volontà di fare una dieta per aiutare i propri malati. Ma la connettività poi deve essere anche tra noi medici e tra i pazienti, dare ai pazienti una maggiore disponibilità di tempo e anche di strumenti diversi per poter variare la dieta, per poter variare l'alimentazione, per poter dare a loro una compliance che sia facilitata, per dare, come si suol dire, un aiuto a queste persone a vivere la loro quotidianità. E in queste cose siamo ancora molto carenti. Noi stiamo cercando di fare, e anche le associazioni stanno cercando di fare, delle app per aiutare i pazienti a migliorare la loro vita quotidiana nella pratica della dieta chetogenica. questo sicuramente sarà un aiuto, ma sarà un aiuto ancora di più avere delle equip più specializzate e delle equip dedicate a questa dieta chetogenica. Perché se non si fa così, si rimarrà sempre a mezz'aria, e rimanere a mezz'aria non fa bene a nessuno. E qui concludo e come sempre ringrazio tutti quelli che mi supportano e mi sopportano ogni giorno. Grazie. 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 Grazie.